Buongiorno, perdonate per il pre-live scansonato, capito? Sto facendo delle prove con le live, chiedo scusa perché vi spiego la situazione Io la musica la sentivo, la barra audio di Streamlabs andava ma in live non si sente Questo perché ho modificato delle uscite audio Però in realtà quella cosa lì dovrebbe essere solo per registrare Per ottenere più uscite audio quando uno registra E il fatto che non si senta mi preoccupa un po' sinceramente Non lo so, non so perché è accaduto questo, non ho idea Vabbè abbiamo risolto, adesso senteremo l'audio del giuoco Buongiorno a tutti nel frattempo, come andiamo, come stiamo? Vi sentite abbastanza ficcanti quest'oggi? Buongiorno, sì, mi fa piacere Oscar, mi fa molto piacere Ciao Jules Molto bene Mango, molto bene Che partenza col botto Qui siamo passati dalla nebbia, un sole incredibile Mi fa piacere, per carità mi fa sempre piacere Ho dimenticato la mia felpa d'alberbiere, dovrò andarla a ricomprare Cioè a ricomprare, a recuperare Così vado anche a comprare delle lampadine Dal buco del sedere piccolo Oggi sarà una giornata importante perché dovrò sicuramente registrare un altro video Perché sto cercando di prendermi un pellino avanti E vi avviso già adesso, tanto dovrò ridirlo Molto probabilmente oggi pomeriggio ci sarà una live di test Saranno solamente dei test tecnici Perché sto cercando di streamare in un'altra maniera Magari più comoda, magari più pratica Magari più qualitativa per voi Quindi per forza di cose devo fare dei test sul canale Non posso fare altro Grazie Michele Ieri siamo andati benissimo Abbiamo fatto dei numeri eccezionali Sono molto felice, sono molto fiero Di come è andata Nonostante sia passata una settimana di Grinella Settimana scorsa, abbiamo fatto tutta la settimana di Grinella Poi un'attesa di tutto il weekend Più un lunedì sempre di attesa Siamo tornati ieri Non mi aspettavo troppe persone Perché c'era stato troppo stacco Da venerdì Che comunque non eravamo pochi neanche venerdì C'è stato un lungo stacco Appunto sabato, domenica, lunedì Ho detto vabbè Quelli che siamo, siamo, lo portiamo avanti Invece abbiamo raggiunto dei picchi molto alti Abbiamo mantenuto soprattutto Questo è un altro bellissimo traguardo Ieri ho fatto due ore Come farò anche stasera Quindi vediamo di non far figura di merda Adesso che l'ho detto ormai Ieri non solo abbiamo avuto tante persone Ma le abbiamo mantenute anche allo scoccare dell'ora Quindi di solito Quando io faccio due ore La prima ora ho i numeri normali La seconda ora Crollano in maniera incredibile Perché la gente non è abituata a stare due ore E invece ieri è andata proprio proprio bene Mi ha fatto molto piacere Sì da va bene mi sono fatti i contorni verdi No non è vero In realtà è il gatto che mi deve mandare un botto di roba Mi ha detto sì sì ci sentiamo Poi non si sono fatti più sentire Che devo fare È stato bello E Moro che fa le live alle 3 Eh sì però Moro alle 3 fa le live con 300 persone Ieri eravamo 1400 Quasi 1500 è una certa Dai Buongiorno No no non è male 300 persone di notte Però insomma sono due cose diverse Io a luna di notte ne farei 60 di persone Ma non è per questo che non faccio le live a luna di notte Infatti le live di Moro me le recupero sempre in past Gli ho detto parti prima Parti prima che guarda No Stronzo Sì oggi alle 15 c'è un nuovo trailer di Pokémon Lo seguirò credo di sì Adesso non so se starò già registrando per quell'ora lì Adesso vediamo Non faccio le live alle 1 di notte perché dormo infatti Un tavolo buono che conosco in proprietà Ma c'è No allora Devo essere sincero Rosico un po' perché le live notturne di Moro Sono una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare Tantissimo Però Non posso Non posso permettermelo Io la mattina dopo faccio la live Quindi È impossibile fare le live fino a luna di notte E svegliarsi alle 7 Cioè partire le live alle 1 di notte e alzarsi alle 7 Mai Però le live notturne le trovo molto rilassanti E molto Molto belle Infatti Un paio A Moro le ho seguite Dall'iPad Prendendo sonno sostanzialmente Cioè così No non ci sto col sonno Perché i termosifoni sono fortunati Ricordatevi Sono 5 persone Io sono 1 E faccio più di quello che fanno le 5 Ci stava come dissing Maratoncina da 24 ore passa la paura Quella è una cosa che Mi ero ripromesso di fare nella casa nuova E che non ho ne ancora fatto Mi serve due giorni dove la mia signora è a casa Perché ovviamente Sif Qualcuno lo deve portare via Lo deve portare da qualche parte Però Non lo so Adesso Ve l'avevo promessa La 24 ore dalla casa nuova L'avevo L'avevo effettivamente promessa Adesso Vediamo No no Moro stream Di termosifoni Ma seguite Guardate che le live notturne Di modo sono Molto molto ficcanti Cos'è che mi dovrebbe aver insegnato Karim Scusa Buongiorno Buongiorno a tutti Tolgo le pantofole Perché Allora Voi dovete sapere una cosa Questa è una cosa Questa è una cosa Molto Molto Strana Io ho comprato Il Come si chiama Cosa da attaccare al muro Per controllare la temperatura Il termostato Il termostato Tado Ho comprato Ho comprato L'ultimo modello All'epoca Quando l'ho preso Adesso ne è uscito uno nuovo Ha delle funzioni Interessanti Vede la temperatura In base a quello Se la temperatura scende Sotto una certa soglia Accende i termosifoni Benissimo Ha un'altra funzione Molto interessante Si rende conto Di quando Hai la finestra aperta E spegni i termosifoni Si rende conto Col gps Quando sei fuori casa E spegni i termosifoni Ok Interessantissimo Ho scoperto Tuttavia Che Nel modello 2 Io ho preso il modello 2 E non Il modello 1 Nel modello 2 Tutte queste funzioni Che il modello 1 Ha Integrate Diventano A pagamento mensile Che per carità Non mi ricordo Quanto era Ma mi stava sul cazzo Dover pagare Mensilmente Un abbonamento Per una roba Che invece Prima era gratuita Quindi Adesso Il termosifone Cioè Il termosifone Si rende conto Che la finestra è aperta Ma non lo spegne Si rende conto Che tu sei fuori casa Ma non spegne i termosifoni Devi fare tutto a mano E infatti Prima ho aperto Per arieggiare Figa È partito a canna E sto sudando Però adesso Gli ho spenti Cazzo Cazzo Buongiorno Gabriel Buongiorno Quindi il motivo Per cui mi vedrete Vestirmi e spogliarmi Perché adesso Mi sono spogliato Perché i termosifoni Erano accesi Gli ho spenti E adesso vedrai Che invece Sarà tutto Diverso Tanto grazie mille All'androide paranoide Per la sub Dan Wolf Per i 27 mesi Longo Alex Per i 16 Ficcantissimi Dice lui E ad Adrian Twitch decide Di far condividere Solo adesso A tre giorni Dal rinnovo E niente La si segue sempre Signor Gatto Anche dall'università Grazie Siete già I termosifoni Beh Allora Legalmente Da ieri Si possono accendere In questo momento Fuori ci sono 13 gradi Non ce n'è bisogno 13 gradi E nebbia Non ce n'è bisogno In casa Aspetta Vediamo Adesso in casa È un po' sfalsato Perché sono stati accesi Per un attimo Vediamo 21 gradi Segna 21 gradi In questo momento Quindi siamo Siamo giusti Non è un problema Però sì Nel momento in cui Apri la finestra Passa aria Fredda E il termosifoni Oh Fermo qua Che freddo Matta Ieri rinnovo Oggi il messaggio Grazie Twitch Comunque si ricorda Si ricorda di incrociare Di mai incrociare i flussi Sì grazie Volesti fare la mia vita? Beh La cosa bella di fare la mia vita È che lo può fare chiunque Basta rinunciare ad uscire Tutte le sere Con gli amici Rinunciare ad avere amici Rinunciare ad uscire Vivere in casa Vivere in casa Vivere in casa davanti al pc Vivere in casa davanti al pc Facendo live Vivere in casa Davanti al pc Facendo live Registrando video E montando video E le uniche volte In cui esci di casa Portare fuori il cane Il tutto Per dare il 60% Del tuo guadagno al governo Fatelo Se non avete un cane Ve lo dovete comprare Allo Stato Non al governo Vorrei fare l'ignorante E chiedere cosa cambia Ma non voglio aprire Questo vaso di Pandora Cato sulla rivoluzione proletaria Ne parlavo ieri Con Corn Non mi ricordo Se ne parlavo con Corn Comunque Si era con Corn Perché adesso lui sta male Ed è in casa E a casa in mutua E io stavo pensando Che cazzo Sarebbe bello Fare la stessa cosa Solo che Non posso Cioè se io sto male Mi inculo Perché volendo posso pagare Un'assicurazione Che mi costa centinaia di euro E se non sbaglio Mi da 40 o 50 euro Al giorno Per ogni giorno Che sono completamente Impossibilitato E per il completamente Impossibilitato Dovrei essere in ospedale Quindi Considerando che Dovrei essere in ospedale E pagare centinaia di euro Al mese Pensando che un giorno Magari finisco in ospedale E non posso lavorare Mi sembra un po' Buttar via i soldi Esattamente Gabriel Se stiamo male Ci inculiamo Lavoriamo comunque In mutua Non lo sentivo dagli anni 60 Adesso Siamo giovani Quindi Non mi conviene assolutamente Fare quell'assicurazione Se devo Se sto male Salto Cioè il problema Non è tanto saltare la live E perdere il guadagno Di quella live Il guadagno Il problema è sempre quello Twitch funziona Un po' come un domino Al contrario Tu metti sempre Il tuo tassello Il giorno che salti Rischia di far saltare Molti altri tasselli del domino Perché la gente non ritorna Perché la gente Ah non c'era oggi Forse non c'è neanche domani Se salti due giorni Ah allora non torna più È morto Cose di questo genere Quindi È tutta una roba incredibile Vaglielo a spiegare Vaglielo a spiegare Che puoi veramente 50 euro al giorno Ma Non puoi assolutamente lavorare Non è che se mi viene La febbre Faccio la live Mezzo morto E mi danno 50 euro No Devo essere Impossibilità Non la devo stare Ringraziando di Dio Ancora non mi è capitata Quella cosa lì Però Vediamo Sto temporeggiando Perché L'Epic Game Store Ci sta mettendo una vita Ad aprirsi Siete pronti Guardate che dopo domani È il giorno Mancano due giorni Al giorno Ci sono prove contro ovunque Però diciamo che Se a te va bene Tra un giorno Tra live e video Se è monetizzato Puoi guadagnare il doppio Rispetto a un lavoro normale Sì Mi deve andare bene No no Ma non mi lamento Io sono contento Del mio lavoro Mi piace Semplicemente Sta diventando un po' estenuante Più che altro Le live Così spezzate Mi stanno pesando un po' Preferirei Accorparle di più Fare Un orario lavorativo Più normale E fare più ore Però Ne abbiamo già parlato Grazie a Jimmy Per la sub Perché tecnicamente Io non ho Nessun giorno di riposo Quello che mi frega Non c'è un giorno in cui Dalla mattina alla sera Non faccio niente Molto bene Sanguinaccio Dai Adesso basta Discorsi tristi Siamo in live Ci dobbiamo divertire Oh domani Subday eh Ok questo l'abbiamo visto ieri Ve lo faccio rivedere Nel caso qualcuno Si sia perso il finale Determine to throw A negative light On you And the city And extort you For more money Hello Peck I own that suit in blue Both of you Pipe down That's a chisco Mr. Mayor An enormous event Is on the horizon Something at the museum exhibit Triggered a systemized Psychic occurrence Some mechanism We don't know The nature of yet No Of course you don't But it's feeding Enormous energy somewhere Something that's now In the process Of breaking down the walls Between our world And another one This other world Is crossing through Into ours It started with Simple ghosts Animated monsters Now it's getting bigger We don't know Exactly what's next But there's only room For one city here In this dimension Two physical worlds Can't exist in the same space That's just Elementary particle physics We got a glimpse Of the other world Jock It ain't pretty It's like Brooklyn And the Bronx With no queens in the middle Whole city blocks Sinking into a fifth dimensional abyss Vabbè Questa è la parte iniziale Anche perché Sennò veramente Dura otto minuti La cazzin E dobbiamo trovare Il ciccione Perché altrimenti I fantasmi Fanno Spawnare La loro città fantasma Sulla nostra New York Spaccando il culo A tutto Oh scusa Sono un po' Impacciato Come Sbirciatore Dell'apocalisse Qua Ah Puoi distruggere Questo belisco Scusa Non l'ho letto Vabbè Così Ho vinto Dove hanno pensato Tutti Questi Cultori Dei fantasmi Guarda Che c'hanno Anche Gli ingranagioni Con le catene Comunque Per Riaprire Chiudere Il discorso Di prima Perché non voglio Che vi facciate Strani idee Pensate Che io Sia uno Che sputa Nel piatto Dove mangia Mi piace tantissimo Il mio lavoro Altrimenti Non lo farei Mi dà molte soddisfazioni Come quella Appunto di ieri sera Per Grinell Sono felicissimo Di farlo Semplicemente Sai Quando Quando devi fare Una cosa Per lavoro Dopo un po' Ci sarete passati tutti Può essere il lavoro Più bello del mondo Dopo un po' Dici Eh però Preferirei dormire Per fantasmare Servivano No No It could just be An old steam tunnel No way Peter The design And valves Don't fit for moving Steam Water Gas Electric oil Train Not even slime What about Morlocks Morlocks What about This kind of ornamentation I don't recognize The fabrication Il mio lavoro Per quanto bello Sua lato negativo Della medaglia Sì Nel mio caso Sai qual è Le tasse eccessive Il 60% Mi dà fastidio Perché Guadagno Guadagno bene Ma lavorando Veramente Tantissimo Delle volte Mi piacerebbe Fare un lavoro Normale Che io Da quell'ora A quell'ora Lavoreresso Non faccio Niente Zero Subito Eh quindi Tutta sta roba Sotto la città Guarda Sarpi verde Di nuovo Ma nessuno Se ne è mai reso conto Di questa cosa Mi si rizza Qui Qui ragazzi C'è una crepa Mi diceva Scusa Ho capito male Ah no Aspetta Forse bisogna smelmare No Non è vero Chi è Ah Ho fatto giusto Allora Vedo una sega Non vedo Eh Giornati di riposo È difficile Prenderlo Con il mio lavoro Come dicevo prima Se stai fermo Un giorno Rischi di Rovinare la stricca Non è banale Nessuno che fa questo lavoro Se prende un giorno di riposo È incredibile come ci sia Un impulso per ogni cosa Questa è una domanda Molto Molto profonda Fa Forge Lord Stamattina Siamo profondi? Non so Così Così Dai La leggo perché mi è piaciuta Secondo lei è meglio fare un lavoro Che le piace tantissimo O fare un lavoro Che ti dà un buon stipendio Ma devi sopportare Ma non riesci a sopportare Neanche se ci metti l'anima L'avevo letto di sfuggita anche prima Hai spammato Ma non importa Per una volta te lo abboniamo Perché sono stato stupido io Che la dovevo leggere prima Non spammate mai O per ma ban Detto questo Considerando il fatto che Può essere il lavoro più bello del mondo Ma prima o poi Comunque ti stanca Fare sempre la stessa Ti stanca in generale Dipende dal lavoro Dipende sempre Perché nel momento in cui Sei obbligato a fare qualcosa Per sopravvivere Per vivere Per poterti pagare La casa Il cibo Che mangi Prima o poi qualcosa Qualcosa diventa pesante Che schifo è Ma Ste facce dappertutto Chi è? Eccolo E' scappato Quella che tuffo Non lo so Cioè Quasi ti direi Di fare un lavoro Che ti sta sul cazzo Ma poi dopo sei a casa E sei ricchissimo Alzarsi tutti i giorni E odiare quello che fai Non è bello Ma non è neanche bello Iniziare a mal sopportare Quello che ami Perché è il tuo lavoro Presidente Oia Che è? Che mi ha sparato? Ma che cazzo? Ok Con questo non sto dicendo Che odio i videogiochi Però Ultimamente gioco Veramente poco Per i cazzi miei E questo mi dispiace molto Se lo ami Non dovrebbe essere pesante E ripeto Bownemesis Nel momento in cui Tu ami qualcosa Ma sei costretto A farlo Sei costretto Non lo fai più con piacere Ma lo fai perché devi Quella è la differenza E per questo che vorrei fare Più ore di live Perché così posso Seguire Comunque la mia passione E giocare Molto di più Videogiochi Ma fare molte più ore Fare molte più ore Finire i giochi Non abbandonarli Continuare a portare Che dolore Mi perdoni Ma lei Che vuole da me Ah bisogna usare La melma Con questo qui Ma io Va bene Dov'è lo stronzolone Che puttana E mi sto riprendendo Adesso Prendendomi avanti Con la programmazione Oggi Oggi Registro E mi prendo avanti Per il video di martedì E in più c'è Porca puttana In più c'è Grinell Che mi Mi sta dando Una grande mano Perché è solamente Da montare Dai rianimalo Fighe Alla fine Quello che ho registrato Di Grinell ieri Non era male Non era scattoso Era scattoso Forse riguardandolo In live Poi dopo Lo monterò E vediamo Ma mi sembrava Vabbè che Ora che arriviamo All'episodio di ieri Me ne mancano prima Ovviamente tutto il discorso Era ipotetico E potendo scegliere il lavoro Meglio uno che odi Ma pieno di soldi O uno che ti piace E un guadagno Giusto Non lo so Perché Se tu odi un lavoro Ma guadagni un sacco di soldi Quando vai in ferie Figa che ferie che ti fai Da riccone Però bisogna vedere sempre Sono Sono cose troppo Ipotetiche Se non le Stai vivendo in quel momento È anche difficile Poterlo dire Dovrei provare entrambi Per un paio di mesi E poi decidere Non è una domanda banale Figaro Solo che c'è il dash C'è Ad esempio Fare la chiappa Fatasmi Non deve essere bellissimo Chissà cosa pagano Di assicurazione Sono matto Mi sembra di averne visto uno qua Se è anche vero La questione è che Soldi non soldi Se odi un lavoro Ti logro da dentro E vuoi solamente Che finisca Però anche lì Sta molto al carattere Non penso abbiano Un'assicurazione Neanche secondo me Li pagano un botto Non lo so Sono stipendiati Dal comune Figa Shotta quella roba lì Sono deciso di diventare Insegnante Ma non ho pazienza Con i bambini O mandare il diavolo Tutto e dedicarmi Anime corpo Al fumetto Che adoro tantissimo Ma non camperei molto Eh Eh Allora Sicuramente Non sono la persona giusta Per consigliarti Perché io Prima di buttarmi Anime corpo In questo lavoro Ho aspettato due anni Quindi Io sono Quel tipo di persona Che tiene il piede In due staffe Vede come va E poi dopo Si dedica Solo ad un'unica cosa Facevo l'università Facevo questo lavoro Per pagarmi l'università Quando ho visto Che l'università Non andava Mi son buttato Solo su questo E non Sprecare soldi Per l'università Potrei consigliarti Di fare la stessa cosa Però Ripeto È una cosa Che sei tu Non ti conosco Sì L'insegnante È un lavoro delicato Se lo fai quanto voglia Rischi di danneggiare Gli studenti È vero Però ripeto Sta a lui Naturalmente Io ho avuto Solo insegnanti Terribili Una La maestra di matematica Ci ha dato un calcio Nel culo Non forte Ma una volta La classe si era comportata male Ci ha messi in fila E per mandarci fuori Dalla classe Ci ha tirato Una pedata nel sedere E se facevamo casino In mensa La mensa Non so se voi Avete mai fatto Il tempo lungo Erano le elementari Tutto ciò Alle elementari Noi mangiavamo In mensa Se c'era troppo chiasso Fighe Immaginate una mensa Di bambini Che mangiano E chiacchierano Se c'era troppo casino Ci annullava All'intervallo pomeridiano Quindi anziché Stare fuori A giocare Perché io facevo Il tempo lungo Fino alle 4 Perché i miei genitori Lavoravano E quindi non potevano Portarmi a casa Però il weekend Stavo a casa Cosa bella Dopo pranzo Si tornava in classe E niente intervallo Fuori in giardino Quindi sì Gli insegnanti Possono Causare youtuber Che boss fight Poco edificante Se posso dire la mia E la dico Perché cazzo Fanculo Ah bisogna squirtarli Quelli Ma bene E' andato via Ma eccolo Ma rei Porca puttana C'hai provato Ma cazzo Ma la melma Era fortissima Anche contro questi stronzi Ma va Cagare va Ma se io lo acchiappo Con Con lo spider Cazzo Ah non me lo fa sparare Lo spider Cazzo a lui Ah tutti Slimati Stasera finisco Grinell Allora finisco Non lo so Sicuramente anche stasera Due belle orette Sono proprio felice Dai che è andato Dai che è andato Peter Porca puttana Non capisco più niente Figarei Veramente Dov'è qua Peter Io praticamente Sono il medico A fine partita Sono quello che ha fatto Più punti Quindi Cazzo ma quello lì E' respawnato E' morto E quello lì Che è venuto fuori Era un altro Cazzo Che è? Pesta che può Peter Porca troia Dov'è? Eh uomo nero Lì Ripeto Sta sempre La sensibilità Di ognuno Io ti dico Sono contento Riesco a mettermi via Dei soldi Non troppi Infatti questa cosa Non nascondo Che mi preoccupa un po' Perché vorrei comprarmi casa Solo che la casa Che mi voglio comprare Non costa poco Non perché voglio una villa Ma perché voglio una Una casa Che abbia Due camere da letto Una per me E una per Il futuro Si spera Figliuolo E uno studio Dove lavorare E mi piacerebbe Un giardino per sifone Ecco Queste case qui Non costano poco Serve un mutuo E per avere il mutuo Bisogna avere il 20% Dei soldi Che vuoi chiedere Non ce li ho Non ce li ho Neanche per finta Soprattutto perché Anzi Perché devo pagare Un botto di tasse Non dico che Siamo messi male Assolutamente Perché Me la stoccavano È stato un periodo Di transizione Questo qui Quindi ho speso Un po' di soldi in più Per la casa Per il trasloco E tutto quanto Però Che palle E in più Non è che abbia Tutto sto tempo Per Dormire Fino a tardi Sì no Ma infatti Gabriel Assolutamente C'è chi non riesce Assolutamente A mettersi via nulla È verissima Questa cosa Però Come sempre Ognuno guarda Dal sopratino C'è chi non riesce Neanche ad arrivare A fine mese Parca troi Con il trasloco Ho zerato il mio conto In banca Poi sfighe Con la macchina e cose Il poco che ho guadagnato È evaporato Capita sempre Sai quell'imprevisto Quella cazzata Che ti Che ti azzera il conto È così Sì Questa boss fight È veramente Ma in realtà Non che le altre boss fight Siano straordinarie Peccato Oh figa Di nuovo Sì Tra era giusto Sì L'exam Ma è quello che cerco di fare Solo che non è banale Registrare un video È ancora meno banale Montarlo Devi essere comunque Nel mood giusto E non devi essere Ragazzi Ciao Devi essere quantomeno Intrattenitivo E allegro E sveglio Non è un lavoro Che puoi fare controvoglia Si richiede molto tempo Registrare i video Ci vogliono circa due orette Per registrarli E tre orette Ma dipende Delle volte Ci metto anche tanto tanto A montare un video Perché dipende dal video Ci sono dei video Che monto in un'ora Tipo i weekly Dei video invece Che mi richiedono Anche una giornata intera Dipende dal video Poi delle volte Ci sono dei problemi tecnici Che io mi incaponisco Cerco di risolvere Che magari Sfarfalla un video Si vede male Cerco di risolvere Quelle cose lì E lì si perde ancora tempo Non c'è il doppiaggio In questo gioco Cioè in questa versione Non c'è il doppiaggio Ed è un peccato Ne ho capito Un attimo Si conferma Sto boss fight E' veramente Estenuante Terribile Cazzo Pluff Così Giusto per far qualcosa Si è incastrato Dai Bene Non me lo dire Ok Ma hai pentito Delle mie scelte No Ti direi di no Ma ripeto Sono contento Non Mi lamento Come si lamentano tutti Sai E' E' difficile trovare Qualcuno che abbia La vita talmente perfetta Che non ha niente Di cui lamentarsi Vi lamento anch'io Come vi lamentate Ma aspetta un attimo Porca troia Ma potevamo fare Sto lavoro qui Già da prima Magari Perché sono veramente scemo Non ci avevo pensato Guarda qua E' vero che Questi qui sono dei buchi Che mi hanno insegnato Una volta e mai più E mi sono dimenticato Che c'era questa meccanica Vabbè A posto Ray però che cade È sempre una garanzia Figa Che due coglioni Sta boss fight 8000 minion Che poi non sono minion Ma sono parte integrante Perché se non li sconfiggi Non puoi andare al boss Dai che va Oh Forse ci siamo Dicevo Mi lamento Come si lamentano tutti Ripeto Se Se il mio lavoro Non Non mi piacesse Non mi desse Da mangiare Lo avrei già cambiato Molto tempo fa Anche perché devi fare Delle scelte A una certa Se vedi che una cosa Non funziona Non va Devi Esattamente come ho fatto io Con l'università Ci ho provato Non va Lasciamo perdere Perché perdere Tempo, energia e soldi In una cosa Che non sta funzionando Lasci perdere Così anche il mondo del lavoro Anzi Hai maggior ragione Perché inizia ad invecchiare E quindi devi Devi per forza Iniziare a pensare Ad un piano B Per questo che sto facendo Molte cose Sto aggiornando di molto Il mio curriculum E io sono molto soddisfatto Delle cose che sto facendo Molte Anzi Tutto grazie a voi Che apprezzate il mio lavoro Io sono Ve ne sono Estremamente grato Poi come ho sempre detto Voi non sareste qui Se non ci fossi io A fare le cose Quindi è un 50 e 50 Dai io faccio cose belle Che a voi piacciono Io sono contento Che vi piacciono Ti si può dire Che ti è andata bene Sì Mi è andata molto bene Però Ci ho messo anche Molto impegno Ci vuole tanto impegno E questo era per il discorso Del ragazzo Che prima voleva Buttarsi a fare il fumettista Non è un mondo facile Neanche quello Però se sei bravo Devi farti notare E riuscirai A fare quello di lavoro Però non è una cosa banale Che da un giorno Da un giorno all'altro Inizi a fare quello di lavoro Come ragione il curriculum Con le collaborazioni con aziende Esattamente racnofobico Perché Il curriculum Al di là Della collaborazione Youtubica Che dice Sei lo youtuber Ad esempio Il video che ho fatto Con Karim Power e Danny Lazzarin Nel mio campo È una bella bomba Infatti Sono contentissimo Ero l'unico stronzo Ad avere meno di 8 miliardi di visual Alla settimana Però ero contentissimo Di essere lì Perché Comunque Essendo un signor nessuno Posso dire Di aver collaborato Ad una produzione Di quel calibro Con Ubisoft Eh non è una cazzata Ma poi anche la collaborazione Che faccio appunto Con Ubisoft Adesso ce ne sarà uno L'amico di Yotobi Esatto Che non fa video Da quanto? Ricordiamo che Karim Non sarebbe niente Senza Ma porca troia Ray Veramente Anche durante la cazzi Mi è svenuto Beh solo 40 minuti Di boss fight No meno mezz'ora Che pesantezza Smart cool guys Smart cool guys I have big fish to fry Non l'avevo mai sentito Questo modo di dire Credo che Da quanto? Non è possibile Mi chiedo Di avere veramente Di avere un oce Di lui Ok È posseduto? Sei real heros Nonostante il video Si è stato molto criticato Non ne ho lette Grandi critiche Cioè Allora Ho letto delle critiche A quel video Che avevo fatto con Karim ma sicuramente alcune erano un po' esagerate. Non l'abbiamo montato noi, l'avessimo montato noi sarebbe andata diversamente forse, però questa è un'altra questione. Noi ci siamo divertiti, per noi è stata una bella esperienza. Trova Ray e Egon. Dove sono? Sono di sotto. Eh no, sono qua. Come trovali, scusami. Io non ci sono, attenzione. Ma porca pittana. Eh sì. I can't believe I never saw it before. Okay. For one minute, pretend. Someone here doesn't know what a Mandala is. A Mandala is like a spiritual labyrinth. And this one looks like a spiraling system that feeds into each successive node along the line until it reaches a culmination point. Before he died, Shandor must have set some mechanism in place similar to the antenna in Dana's building. You know, I think you have to make that clear. So this was the gizmo that's supposed to feed energy to the destructor form? That's, that's right, Peter! Oh, that's a great idea. Well, Dr. Venkman. Well, I had to get one right eventually, didn't I? I mean, just math. All right, I'm just speculating, but it's possible that ghosts are trapped in the system, funneled from node to node, and they get stronger and stronger until they reach the end and then they... Look, the first portal, the library, the second, the museum, and the third, the Sedgwick! And that means the fourth portal must be right here. The middle of the Hudson River? Well, according to the Mandala, yes. It may need a little tweaking. I don't know, plenty of bodies in that river. Could become ghosts. But what does this have to do with me? What did I do? You were at the museum and the Sedgwick. Maybe you were some sort of catalyst, accidentally setting things in motion. You're saying this is my fault? You were playing was... What I meant to say was that you have some sort of connection to this thing and we're going to go back to the Sedgwick and find out what. Isn't that right? Bring Yak. That's right, Peter. Alyssa, do you remember where you were going when you were at the Sedgwick? I was standing outside a room, 12.21. Something was compelling me to go in, but I woke up just before the door opened. I ran out of there as fast as I could. And then some jerk tried to pick me up on the elevator. Okay, you need to stay here where it's safe and where you can't set off any more cross-dimensional shockwaves hot stuff. Here, read up on the Mandala and the boys will check out the Sedgwick. The boys? And what about you, superstar? I'm going to have you drop me off near Peck's office. Something tells me he's not quite what he seems. Good idea. Meet us at the hotel when you're done. Che bello, colpa mia. Guarda, sei pronto a partire? Sono qua. Vai. Non è che ci siano dei preparativi da fare. Bello, if this place were any more dead, we'd need a coroner. He used to be a licensed coroner. No kidding. It's just a hobby now. Close until further notice by the Paranormal Contracts Oversight Commission. Peacock. Entrance into this establishment is strictly forbidden and is punishable by fine and imprisonment. Attention. What now? Hmm. Entriamo lo stesso. This notice is for the general public. It doesn't apply to us. We're bonded contractors for the city. Especially the Ghostbusters. Ah, va bene, c'è scritto proprio. Alright, heat them up. We'll melt our way in. Wait. I have a better idea. Mi fa sempre ridere che cercano di mettere i bastoni tra le ruote a loro che cercano di salvare la città. Dopo tre volte che lo hanno fatto. Vabbè. Penobbio è fare il DJ sulle web radio degli anziani che si sentono giovani. Tu non hai idea di quante web radio io ho seguito con la chat. Momenti bellissimi della mia vita. Why are they shut down? You guys didn't pick this up that bad last time you were here. If this place is a Mandala node, a few burnt walls and broken ceilings are the last thing that anybody's... And smashed furniture, broken chandeliers, destroyed paintings, shattered vases. Probably some minor structural damage. Thank you, Egon. My point being that there's more to worry about here than some minor cosmetic issues. Definitely a Mandala node. If we don't shut down Shandor's Mandala soon, most of Manhattan will become as vacant as this. Not to mention also becoming a bastion of absolute mind-numbing horror for centuries to come. Hey, I definitely don't have two grand a month for a 600 square foot walk up to live in a bastion. Let's get to it. Anche qui la questione monetaria è importante. Si può spaccare. Vabbè. Tranquilli, a chi è pafantasmi. Come l'ho imboscata? Dov'è? Ma che figo! E non li ho visti perché sono alla luce? Andiamo al dodicesimo piano. Ma ci sarà un ascensore o devo andare a piedi? Gli ascensori sono cioccolatati. Che succede qua? Mmm. Che cos'è? Che paura era un aspirapolveri. Spooky. E quindi... Voliamo? Non ho capito. Qual è la vostra idea per salire? Cosa c'è qua? È plastica. Scala e siano. Scala e siano. Perchè c'è lui? Perchè c'è lui? Perchè c'è lui? Qui era? E non andiamo su per le scale quindi? Dov'è andare al dodicesimo? Che storia, signora. Che stelt quel coltellaccio. Chissà cosa succede. Allora, ho capito eh, però col coltellaccio era un po' sgamabile. Capito che fa la vedova di professione, però... Non c'è un po' sbagliato. Non c'è un po' sbagliato. Non necessario. Il 12th floor è apperentamente il cuore di questo nodo. Se possiamo ottenere l'acqua, possiamo ottenere l'elevator. Perchè c'è un po' sbagliato. Dov'è la cucina, ragazzi? Ecco. Perchè, becchè boia! Aspetta, mi sa che devo usare il pompa. Veste come è partito quello lì. Ci siamo! Che liscio, gatto. Ok, di qua? Oh no, di qua si è protetto lui. Watch out! Ok, te lo congelo. Figa, quanti? Ce n'è più di qua? Ok. Bravi tutti! Eh no. Tutti esperti di cucina qui. Segui l'odore di fritto. Ma basta, cazzo. Sì, guarda, alle risate secondo me c'è qualcuno. Volano anche i cosi. Ma io per sicurezza... Smelmo. Molto bene. Porta. Qua c'è una porta. Poi c'è una porta d'uscita. Il cartello. Ma che cazzo scopo, scusa. Cartello, guarda, c'è un cartello qui. Generator room. Eh beh, direi che ci siamo. Sempre acqua fino alle ginocchia. Qualunque porta si apre con un calcio. Questo ve lo potete segnare per la vita. Eh, ecco qui. Qua si illumina, quindi dovrò toccare qui. Eccolo qua. Sì. Eccolo là. Ci penso io. Guarda. Guarda come sono Spider-Man. A posto, risolto? No, ma non l'ho... L'avevo risolto, l'avevo. Aspetta, ci riprovo. A posto? Siamo tranquilli? Io vado, eh. A posto. Sì, mi sta piacendo, ma le boss fight sono veramente fastidiose. Le orde... Ma non troppo. Le orde non sono così fastidiose. Ci sono, ma... Giusto. Le orde non danno troppo fastidio. Però le boss fight, sì. Non è andato, cazzo. Che grosso! Che ratatouille! Vieni qua, Gusto! T'ho preso panzone. No! Il sous-chef! Ok. Allora, aspetta un attimo che chiudiamo questo buco. A posto. Porca puttana che botta. No, no, no. Porca vacca. Devo cambiare cosa. Dove sono qua? A uno. Ah, l'altra è stata tirata. Bestia. Anche il sindaco di Lightweb Recon 3. Quello lì. Quindi... Gusto. Di ratatouille. È lui, no? Quando sento il tuo profumo... Porca puttana. Via qua. Via qua. Puttana tu. Fantasma della merda. Fermo lì. Ti intrappolo nelle mutande. Tiè. Affanculo. C'ho il mouse nuovo, c'ho. Non ho più problemi di scorrimento. Tiè. Aia, mi serve a spararmi nel culo. Piglielo qui, piglielo qui. Dov'è? Aia, che botto. Aim high. Figa. Eccolo. Dai che qua, dai che qua. Gustiamolo, gustiamolo. Capotana, non riesco. Ragazzi, datemi una mano benino. Ora. Ma che cazzo spruzzi quei piedi? Ma che stupido questo qua. Ed è andata via... Tutta la brigata. Aspetta un attimo, che mi sa che c'ho dei potenziamenti da... Non posso, sì. Ok, qui. Perché ne ho parecchi di soldi. Ma che palle che non posso... Ok, immunità? Dammela. Aumento della forza del soffiacazzo. Vai. Eh, Gabriel, tu li conosci i miei gusti. Ok. Guarda la roba che dovevo mettermi. Lancio melma. Potenziato. Reduzione del costo del lancio melma. Ma sì, ma non c'è qualcosa di un po' più... Ecco, tipo la trappola a buoni. Io non capisco queste robe qui. Che cosa dovremmo... Potenziami questo, intanto. Guarda soldi. Come vanno via i soldi nel mondo degli accappa fantasmi, eh? Chissà se fatturano. Tutte queste spese. Sicuramente. Ok. Ok. Ah no giusto dobbiamo dare l'accesso Non so mi aspettavo che mi dicesse qualcosa Ma quindi adesso che l'ho potenziato mi si rizza di più? Ma ci sono ancora le barrette di cioccolato davanti agli ascensori Come facciamo? Per un po' Oh che succede lì? Eh non c'è niente da scannare Ah è arrivato Grazie brisichella per i due mesi Dei pane ciocca anche Ricordate tutti di rinnovare che domani è il subday Subday E l'ho a coltella Grazie a Leon per la sub Dai c'aveva il coltello in mano C'aveva Sì questa scena è stata un po' Oh lui c'ha il coso che gli impazzisce Il mio non si rizza C'è l'ho a coltello in mano Non so è l'unica che si apre Ancora ho tirato l'acqua? Aha Mi sono rubato il cesso Alcuno si era affogato lì dentro Si chiedeva del bagno Vabbè Tutto qua? Non me lo dire Veramente era tutto lì? E quindi? Scusa Dov'è? Ah di qua ok arrivo Si prego Mi si rizza anche a me Quindi è il dodicesimo piano per forza Scusami Perché cazzo dicevano che doveva andare al tredicesimo Dove? No Dov'è andato? Buonasera Dardo a bosoni E dardo a bosoni sia signori Che testicoli Parabarabara Ecco se non fossimo stati attaccati Da altre 20 creature identiche a loro Semplicemente non erano ragni Il gioco Avrebbe preso tutto un altro interesse Oh no No Eh no non si passa E quindi? È un coltellino? È caduto da solo Meglio così Beh Farti accompagnare in stanza da una donna con una mannaia in mano Perché voleva vedere le caviglie poi? Feticista delle caviglie È il mondo del ghost world crossing through È avvenuto più più di più di cui abbiamo aspettato Ok Sembra che questo è dove il nodo è focalizzato Potremmo usare un po' di aiuto Ray? Sei qui? Come in Ray Sembra che sia per noi Vediamo il 1221 e finiremo Queste scene sono terribili In prima persona col personaggio che fa lo spiegone Sì ho capito No Oh io non li vedo efficaci Mi sa che è con Vedi con la svomitazza si fa più efficace Che cos'è la svomitazza? Bug forse Non dovevo entrarci Beh testicolone Andiamo Uh uomini appesi Si vedi? Si fa prima con sto Con la svomitazza Eccola No È questa qua Ma l'ho trovata ti ho detto E allora no 1 2 2 3 E questo sarà Ah no 1 2 2 1 2 E 1 2 2 1 E questa qua La devo smerdare? Ma sei stupido? Guardate Che gente appesa Mi piace come è arredato Testicoli E coglioni Potevo farla più fine Non è nemmeno Non è nemmeno Grazie a Carlo Buongiorno Sono due mesi che non la seguo in live Ma passo volentieri A salutare e rinnovare Grazie mille Grazie mille Speriamo che questa boss fight Non sia piena di minion E tediosa In Giappone ci sono Scommetto che in Giappone ci siano Davvero stanza di agenda Per divertimenti privati Per chi l'ha già giocato? Come siamo messi? Con i rani Certo Il covo della strega Ah figo Ah che prurito Tu come mai ti sei fermato Gabriel? Che lag... Bello il lampadario Di qua mi si rizza di più Andiamo a vedere di qua Eccola Ancora tre Quello finiamo domani Vabbè ci sta Cioè in teoria domani Poi non so Che c'è? Occhio a che cosa Ah eccola Tutti deboli non si sa E' veramente che lag Ostia Provo col pompa E' sparita No Ah è bravissima Maga La congelo Vai Non funziona Sui boss Perfetto Lo sento zompetare Eccola Non le faccio niente Si due colpi Sparisce Aia Coglione Ma perché colpisci me? Boh mi sembra efficace Mi sembra Non capisco Sembra tutte uguali In realtà come attacchi Semplicemente questo Posso farlo durare di più Trovo la strega di rani E' più difficile di nutrirsi Stronza Ma perché colpisce me? Perché cazzo colpisce me Sto stronzo E' anche andato ormai A uno di vita A posto No Le balle a posto Uccidila Ragnala Mamma mia che scazzo Che cazzo interribile Che bocca Che storia Rai Winston Come in Egon What happened? You all right? Their crew found the 13th floor And we shut it down PKE levels are back to acceptable parameters This note of the Mandala Is fully neutralized All right Where are you? We went back down to the 12th floor And couldn't find anything Everything seems pretty normal Looks like we're back in the Ruby ballroom We'll meet you at Ecto-1 Dai Egon Remind mi Why are we driving aimlessly in the fog? The final note Bekman We close it And we seal the Mandala Trapping the ghosts inside Sorry to break this to Egon But I just don't see A Mandala Ha parlato E' la prigione dei super cattivi Quella Shandor Isla It's here It's a bit dark Let's see if we want It's too unstable I'm gonna have to drop you guys in circle If Ecto-8 sinks, we're sunk too Ray, since you're the most excited about going to Ghost Island Why don't I just take the boat? I thought I was making a nice gesture You're giving me the suspicious look Ha 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 Drop that instantly It's good going Because nobody Enjoys rushing headlong towards their death More than this color Eh, spedito, non è che sto rushando, Gabriel Sto facendo quello che devo fare Però ci sono boss che mi durano mezz'ora Boss che mi durano un attimo Come la signora Non c'è una via di mezzo Scusa, mi ero perso perché hai detto che non Avevi altro a cui giocare, ho capito Andiamo Non dovevo Non dovevo Non so come bisogna fare Bisogna spostare questa cosa qui Ah, forse bisogna semplicemente girarlo con il potere dell'ecto Cazzo No, non me lo fa fare Eh, infatti mi mancano i controlli della gru Hai ragione Me ne ero dimenticato È una cosa che usiamo veramente mai Sì Sì, sì, avevo capito che bisogna usare la gru Non capivo se bisogna usare Come Cercavo di usare il raggio Quello Spostamento Ma non bisogna No? Sembra giusto Posso mettere i suoi tempi Grazie a RinQ Che per i nove mesi Finalmente sono nato Le si vuole tanto meno Oh, grazie Vabbè, Gabriele Non ce n'era bisogno Però sì Cioè, è arrivato il suggerimento Non troppo lineare Ma neanche troppo Da attesa Adesso dobbiamo rompere Grazie a tutti Oh, grazie a tutti Che c'è con te Sì, sai che solo si pagano Se viviamo La crew Tu ok? Siamo continuati Pregunti Che paura Ci vediamo lì Sono contento che non ci sia Ray Madonna Qua c'è un sacco L'art deco Ma anche il gozeriano Non è male Guarda Lei è di libertà Dai, andiamo su Ci viverei in un posto così Una volta ripulito Che dobbiamo fare? Bloccare quello? Non ho capito Non ho sinceramente capito Che cosa è successo Aia No, quelli lì Bisogna uccidere col 2 No, non è vero Quello Quello slime Vabbè Capito Grazie mille Eh, la madonna Ragazzi Quanto No, no, no No, no Dai Ah, giusto Questi si dovevano Achiappare Me l'ho scordato Alla forza del sistema Di sicurezza C'ha i demoni Chi è? Vabbè Ormai ho capito L'antifono Via qua Morto Ah Nice Mi piace come colpiscano me Posso permettermi un altro potenziamento 10.000 direi di sì A questo punto andiamo in ordine Riprendiamo tutti Sì, sì Ok Ripartiamo da qua in alto La laccio melma Che non serve a una sega Eh, per carità Però Ok Ok Eh, sì L'abbiamo capito Non ho capito Cosa vuol dire? No Quindi devo tornare Non ho capito Non ho capito Bisogna andare a fare la catena Ah, aspetta Bisogna andare a scendere Ok Non avevo visto che si poteva scendere Ci sono Sì Però è chiusa Quindi niente C'è qualcosa Di chi si gira Carino Non c'è niente Solo rumori Ecco Qua c'è il rilevatore Mi si rizza Cos'è? Era Peter Griffey quello Oh che palle Allora No Sera No Anche se questo muro Come non ho detto Winston Porca troia Dai Su Siamo professionali Ma cazzo Era qua Fa il culo Winston Come gira il manovellone Così? Insomma ci mettiamo una vita Però così Te lo dico Tua madre No Ho capito Ah A posto A posto Ok Andiamo ragazzi 500 dollari Per aver spruzzato lì Ma non ho capito Mi sono perso Il discorso Dark Souls Che c'ha di Dark Souls Questo gioco Scusate Il gameplay mi sembra Leggermente diverso Io la melma l'ho usata qua Non mi sembra Stia funzionando Però Ma ci sono delle mani Il signor Salazar Serpe verde Qua che vomita Andiamo Che cosa sto tirando Questo qui Che occhi Che paura Mi sembrava un uomo Quello lì I see her You and me both She's wearing just a simple Terry Cloth robe And she's brought me coffee That's her all right Spitting image The resemblance is uncanny This is Evo Shandor's mother Painted in 1885 Ego per can Wait What? Alyssa is a Shandor? Why does this always happen to me? I meet a girl She's crazy about me But she always turns out to be Some kind of unbelievable fixer-upper This is all making sense Alyssa must have inadvertently Triggered the mandala Because she has Shandor blood She doesn't know it When I did her profile She told me she was adopted Some coincidence, huh? You don't really believe This happened by accident No Someone must have known And set this up The mayor did say That Peck personally Recommended Alyssa To be the guest curator Of the Gozer Ma si ma era chiarissimo Che era lui Lo stonzo Peck Ecco questa parte è un po' banale La trama qui cade completamente La scusa del pronipote Trita e ritrita Che figata che hanno preso Il quadro di famosi E li hanno modificati Horrifico You can't deny the pure genius of Shandor It's a pity that was all used for evil If you would have just channeled some of it for good The things he could have done Ma questa è la dama con ermellino? C'è un uomo quello lì RCAVACA SCUSA Sì Sembra un uomo Saranno gli sviluppatori Probabilmente VAMOS A BAILAR Nai 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 Cos'è quello? Ah il teschio Oh madonna Era fissato bene quel teschio Ah questa fisica comunque Non è banale Allora di lì c'è della situazione Qui Anche Non so Annaffio No Andiamo oltre Beh è così potente quella chiesa Che la gente è immortale Quindi direi di sì Sì è identico a Dark Souls questo pezzo effettivamente Sono d'accordo Buon lavoro Pao Allora di sì 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 Grazie Antonio Per cinque mesi A la right Ma che cazzo Dove sei uscito te? Che stronzata E grazie ad Antonio Per i cinque mesi Che ho già ringraziato Un secondo fa Però sono stupido Sì ho confuso con Winston Scusami Tutti i quadri Sì vandalizziamo Tiriamolo giù questo posto Abbandona la messa nera Era una messa nera questa Check this joint out Mi hai fatto ridere come è che è usato Ah Che mangio? No Get back Take your imaginary hands off me man No Come faccio a comunicare Io non parlo Egon 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 Bring it back here Kids Help us Ok You need to get to the others So Help Please be careful You don't know what we're dealing with Sounds big Big things attack inverts Non so Faccio bene a fare questo lavoro qua Ellie La riunione dei genitori dell'asilo di mie figlie è stata di un noioso inenarrabile Molto meglio le live di Twitch Vabbè grazie Non so se prenderò come un complimento Le regalo qualche spicciolo per avermi fatto scappare via prima Ah Merito mio? Che puttana Non so se essere comparati ad una riunione dell'asilo Possa essere Una cosa positiva Fa curriculum anche quella Vabbè io Modestamente Dove cazzo devo andare? Di qua Oh Ciao Ma che paura Wow Ho smettato un topo morto Chi è? No Niente Mi sono perso? Ok Sono nelmo qui Questa è una roba che devo utilizzare forse Non lo so Sembra elettronico No Di qua Non so perché Di qua mi sembra giusto Barile Nettamente migliore di una riunione dell'asilo Washington Journal Chi è in catene? Ah Barile No Vediamo se c'è qualche cosa qui Posso spidermanarmi? No Se vado qui Mi faccio danno Si Motto Eh dai No Non mi ha fatto uscire Che palle Occhio che mi fa ricominciare dall'inizio adesso Puttana Puttana Ma non ho fatto in tempo a provare a uscire Andare Ha ricominciato quindi dobbiamo rifare la parte dell'unione dell'asilo Ah ma quindi non so se è un complimento Ah cacchio Buon Allora provare andare Grazie The Sin Drain Per i set Per i tre mesi Scusami Eeeh Sono morto contro i ragnetti Com'era a cosa dell'asilo Che non so se è meglio Complimento Il Washington Journal Mi ha detto che sono meglio Premio Io better Buongiorno Buongiorno Mi sento da dietro ma vengono soldi da domani A posto Allora Andiamo a sinistra Che paura Ma cos'è stato Ah si chiude Perfetto Perfetto nel senso che Vuol dire che Dobbiamo andare per forza da questa parte Catene Ok Se scendo Muoio Di qua si va Ah vaffanculo Banalmente bisognava prendere l'altra strada Fai defluire la merda nera Con questo tasto qua Sembrerebbe Però non No Spruzzandola Non credo Ci sarà un aggeggio da qualche parte Qui manca qualcosa Eh ho capito io Qui mancano Tipo Ah Così Ah si Così Ok 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 Non me lo dire Pezzo di melma Vedi con due Va al doppio della velocità Non è vero Va al quintuplo della velocità Con due Guarda PANG Ok Adesso defluisce Posso camminare Quindi Siamo sicuri Ma qua arriva qualcuno Cos'era Era grosso quello L'ho visto Il melmon E se faccio così Ah Ma figurati Se funziona Qualche tattica Il dribbling Merda Beccatelo Beccatelo Ha ha Sicuramente l'ho bloccato Guarda che chiudo anche I minion Che Abbiamo meno rotture di balle Run away Run away Chiudo i buchi Lo spruzzo Lo spruzzo Lo spruzzo Aia che botta E là La peppa Vado via Chi è spider gatto Muorici Muorici Ok è andato L'ho sciolto L'ho sciolto Tranquilli Tranquilli Ci sono io Il gatto Ne ho sponato un altro Perfetto Che facciamo Come la mettiamo Questa situazione Dalla melma Letteralmente Lì che mi rincorre E io gli tappo i buchi Aia che Dolores Però lui adesso Viene su qua E mi inchiula Non se prima Li uccido Ok Dov'è? Eccolo lì Però lui non lancia Lui rompe Il grattring Che è il dribbling Ma con il mio nome In mezzo Grazie a Rivo Giorno gatto Gatto buster Si passa per un saluto E si va a lavare i piatti Buon divertimento Non passi Perca troia Non passi Lui passa Lui passa lo stesso Ok Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio E poi Che devo fare? E' andato Che spoiler Finita così Ok Non posso andarci Di qua Ecco Come passo Non ho capito Ho fatto defluire E quindi Che devo fare? Di qua non posso andare adesso Devo ritirare su? No Eppure di là Mi sembra il posto giusto Dove andare No? O forse no Ah lì dietro Ho visto Ok Ok Problemi moderni Richiedono soluzioni Moderne Cos'è? Oh No bello Vero? Bermanera Certo Che ora è? Eh abbiamo ancora 20 minuti Ogni tanto Ogni tanto rispunto No 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 Cazzo Cazzo ho sbagliato tasto Eh qua mi inchiulano Qua mi inchiulano Ma che brutta cosa Dover schivare in un coso In uno spazio così piccolo Che game design di merda qui Veramente Ragazzi Level design Di merda Beh dobbiamo risalire no? Hanno anche loro una trappola per i fantasmi Savva gli acchiappa fantasmi Mi sa che è qui Vai Fai Fai Gliela spengo la melma No non si riesce Ci ho provato però Wow guarda che loro fanno la melma Ma non li fanno più dal 600 I crazy experiment da dentro Ecco se proprio gli dovete dare uno stile Gli dovete dire che è Resident Evil Non di certo Dark Souls Melma Non ci provare Aspetta che chiudo il buco prima Bastardi Bastardi melmici Melmardi Cazzo guarda quanti buchi da chiudere Guarda quanti ce n'è di là Prima chiudo i buchi Poi penso al resto Prima chiudo i buchi Poi apro i culi I PIA No Winston Vaffanculo E tutte quelle frasi da gradasso Che hai detto Grazie Matthew Per i 17 mesi Ricordo tutti che domani è il subday Se non volete perdervi la live Su Bonly E il video su Bonly Ricordatevi di rinnovare Il vostro abbonamento O di farlo per la prima volta Nel caso vi sia Di vostro gradimento Barra interesse E vi ricordo che se vi subate a me Diventate il 65% Più belle Se siete fanciulle E il 98% Più sex appeal Se siete maschi E grazie a Baggio Che ha deciso Di diventare Più sex appeal Sarà il 65% Più Di quello che sei già Adesso non è che Si possono fare Stravolgimenti esagerati C'è già il tuo Non c'è bisogno Di sboronare Eh La scienza della melma Mi piace Potrei laurearmici Lo blocco No Ci ho provato Che figata Questi laboratori Molto belli Ma dai Ah no Ci ha aperto la porta E' molto più elaborato Dei film L'ambientazione Per carità Dall'altro c'era Mastro di porta E la porta Effettivamente Da cui veniva L'altro mondo Però qua E' parecchio figo Mastra Winston Una volta che cado io Winston Una No ho sbagliato Ah ok Sì ho capito dove siamo Qui adesso si apre il portone Non ci pensare Non ci pensare Ok Fa il culo Prima spengo l'incendio Poi cerco il piromane Vi è piaciuta questa metafora? Winston è morto Dai che non ci piglio Dai che non ci piglio Vaffanculo Uuuuh C'è pure il culo grosso Che sta camperando Winston Bene Tiè Winston ciao Winston aiuto Bravo Andiamo via Chiudi i buchi Winston Chiudi i buchi Non si riesce Non si riesce La nostra vita Fa schifo Che succede? Ah Come faccio a chiudere Quelli lì? E' andato a terra Vado via Vado via Forse dall'alto Spero almeno Libra Igon Ma dov'era Igon? Non ho visto altre bare Cioè le ho viste Ma non mi sembravano Piene Tirami 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 Scappa Scappa Ma porca puttana Di qua non si può andare Valedette scale A loro piace Catere Winston Vediamo dov'è Vediamo dov'è Eccolo E' qua E' qua E' qua Non l'avevo visto Ok Tiralo tu Tiralo tu La mordo Ok Grazie A posto Gli altri buchi Forse non ho scriptati Non me li faceva chiudere Finchè non arrivava Igon Che porcheria Vabbè Non importa Un attimo Winston Un attimo Cioè credo Non lo so Eccolo qui Grandissimo Shendor Come è Peter Lo liberiamo in maniera comica Sarà una cazzata Eccolo qua Dov'è Ah non c'è Ma è Peter Mica l'ho visto Lo scemo Ma basta Questo perde anche Mi si rizza Guarda come mi si rizza E beh Questo è un affare grosso Che cosa faccio Lo scemo Lo scemo Lo scemo Lo scemo È così grande Che 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 E' un dispositivo tipicamente usato per prezziare l'alignamento planetario In questo caso sembra di essere aligningi le dimensioni Io, per esempio, non voglio le dimensioni di aligning Non è così vicino a Christmas E' un dispositivo di mettere un'alimentazione sull'alimentazione Come dobbiamo fermare l'alimentazione? La motion di questi dispositivi sembra generare un tipo di energia Basta bloccarlo, così Scoppia tutto Scoppia tutto La laccio a melma non va Come ne fermo, scusa? Cioè ha detto con la laccio a melma lui, ma non si può A queste sfere forse intende? Ho capito Ho capito, ho capito Ricorda il gioco di Leonardo I razzetti Così sarà Figa Ok C'è anche un po' di cooldown, c'è Bang! Non era più divertente, io volevo fermare tutto Porca vacca Bang, ho spaccato tutto Quindi Li disallineo No Perfetto Qualca froia Merda Nera Melma nera Eh, però Una volta arrivati qui Che facciamo? La guardiamo salire finché non moriamo? Ragazzi Qual è il piano? No? Disallineo? Non so Facciamo qualcosa Vintage Sono sub solo da pochi giorni Non so bene come funziona Per le live e video dei sub Tutto sul sito Tutto sul sito Puoi recuperare E allora il video Rimane su tutto il mese Quindi lo puoi vedere quando vuoi La live in pasta La puoi recuperare quando vuoi Sì È una live in pasta normale Boss C'ha le mani Sconfiggi il giovane putrido Ah, sicuro bisognerà smelmarnire gli occhi Scusami Perché Peter è a terra? Cosa è successo? Peter Perché non lo sta tirando su nessuno? Ah, che dolore! Eh, credo sia l'occhio Ho capito come devo fare per Per provocarlo Ma ok Ho capito Dopo questo c'è C'è tanto Cioè dura tanto Questa boss fight Perché se no Devo chiudere prima Sono le 11 Cazzi 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 duri Eccolo Manca poco in realtà Vedi che è ingrassato Giovane putrido Sei un ciccione Andate da Peter Non fatelo fare a me Tutto a me Ok, è andato 3.500 Mi ha dato tra l'altro Ok Come ho finito il gioco Iscriviti Ha 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 Ho** Tu ti si La sera CAppili è una C матrica Tu tro come è stato? era bello? come si sembrava? si ricevessero? si aveva molti occhi? shut up ha ha Tanto preparo un ride. Allora ho capito un riso, ok, stringi, abbiamo capito. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Oh no, di nuovo cose grosse Perchè? 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 Vi ringrazio tutti per donazioni super sub come sempre Noi ci vediamo stasera, mi raccomando, con due ore di Green Hell E nulla, grazie per donazioni super sub come sempre, vi ringrazio di termos e gli diciamo È tutta colpa del giovane putrido Ok? Chiudo, chiudo Grazie a tutti ragazzuoli e ci vediamo stasera Non posso, devo sbattare Due, uno, adesso